Ciao a tutti! Oggi capiamo cos'è la torsione testicolare. La torsione testicolare è un'emergenza medico-chirurgica che consiste nella rotazione del testicolo intorno al proprio asse. Ruotando il testicolo ruota anche il funicolo sfermatico che è quel cordone sopra il testicolo in cui passano i vasi sanguigni e i nervi diretti al testicolo. Ruotando i vasi si strozzano impedendo così al sangue di circolare al testicolo. Questo provoca una morte del testicolo graduale. La presentazione di una torsione testicolare è acuta. Il paziente di solito tra l'età dei 12 ai 16 anni sente un dolore acuto al testicolo che non va via. In questi casi è mandatorio andare subito al pronto soccorso affinché il personale sanitario può derotare il testicolo o manualmente o attraverso un'operazione chirurgica. Ciao a tutti e alla prossima definizione!